E' questo il nuovo scenario ipotizzato oggi in aula dai consulenti medico-legali della parte civile, cioè la famiglia di Martina Rossi, la giovane studentessa a Ligure precipitata dal sesto piano di un hotel delle Baleari il 3 agosto 2011. Per la procura di Arezzo la ragazza stava cercando di sfuggire ad un tentativo di stupro. Per la difesa dei due imputati, Luca ed Alessandro, due giovani aretini accusati di morte in conseguenza di altro reato, invece ci sarebbe trattato di un suicidio. Al centro dell'ultimo udienza del processo per la morte della ragazza i testimoni dell'accusa privata. I primi ad essere stati ascoltati sono stati i tecnici, secondo i quali alcune fratture sarebbero incompatibili con l'ipotesi del gesto volontario. La frattura della mascella, le lesioni che aveva all'occhio, al labbro, alla zona temporoparietale e un graffio che aveva qui. E poi soprattutto ha delle stranissime incisioni sulla spalla che fanno pensare a una compressione violenta del corpo contro un qualche oggetto che ha lasciato lo stampo della sua struttura. L'ipotesi che pare paventare la parte civile sia quella di un pestaggio a sangue. Francamente è una sconfessione totale di quella che è l'impostazione accusatoria e della consulenza dell'ingegner Sartini. Chiamati a deporre anche una decina di amici e conoscenti di Martina. Erano ragazzi tutte giovani che, diciamo così, a volte interrogate e via dicendo, fotografavano complessivamente proprio tutta l'esistenza di Martina. I suoi momenti belli, quelli no, quelli naturali, quelli... Ecco, adesso quando le guardavo, due o tre sono ingegneri, insomma, tutte con un ruolo oramai nella vita. Una è diventata mamma, ho visto Sara con la bambina. E beh, tutto si complica invece che essere più facile. Presenti infine nella lista testimoni della parte civile anche i due imputati. Verranno sentiti come da codice di rito successivamente all'escussione di tutte le parti civili, dei testi delle parti civili. In quel momento si colloca. Quindi siccome oggi non sono state citate tutti i testi della parte civile, è ovvio che eventualmente l'uglienza in cui ci saranno gli esami imputati sarà la prossima. Si presenteranno? Su questo ovviamente mi riservo. Grazie. 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 Grazie.